Qui ad Atene noi facciamo così. Qui il nostro governo favorisce molti invece dei pochi e per questo viene chiamata democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Quanto un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito e la povertà non costituisce un impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo, se al nostro prossimo piace vivere a modo suo. Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino atenese non trascura pubblici affari quando attende alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa di pubblici affari per risolvere le sue questioni private. Qui ad Atene noi facciamo così. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi e non scritte che risiedono nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buonsenso. Qui ad Atene noi facciamo così. Un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh, tutti qui ad Atene siamo in grado di giudicarla. Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione, ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e che noi non cacciamo mai uno straniero. Qui, ad Atene, noi facciamo così. Bravissima Alessandra, grazie. Benvenuti a tutti, benvenuti a Casoli, a Salgo, mi sono abituato sempre, lo sapete. Quindi benvenuti a tutti, al Presidente Antoci, alla professoressa La Calandra, al Vicepreside dell'Algeri Marino, a tutti gli intervenuti, agli uomini della scorta. Come abbiamo detto questa mattina a scuola, che è stata una giornata bellissima, ve l'assicuro, ci hanno regalato oltre tre ore di confronto, di ascolto e vi anticipo subito che dobbiamo fare delle domande alla fine, per comprendere ciò che stiamo vivendo, ciò che è il presente, ciò che potrà essere e che può essere il futuro. Io sono onorato di avervi qui a Casoli oggi e stiamo vivendo anche una giornata particolare perché in tanti mi chiamano, ma che sta succedendo? C'è il giudice, è venuto qualcuno, mi chiedono un po' di tutto perché si sparge la voce anche insensata come le tante voci che partono e che sono prive di fondamento ma servono soltanto a depistare quello che è il vero messaggio che deve passare, che è un messaggio di rispetto della legalità, del rispetto del vivere civile, del rispetto del proprio anche avversario politico, anche avversario commerciale o quant'altro, ma sempre nel rispetto delle regole. E questa mattina, a mio avviso, e quindi immagino che anche oggi pomeriggio sarà così, nel discorso di fondo è uscito una cosa e noi nella nostra vita possiamo fare delle scelte, le scelte si fanno quando si vota il sindaco e uno se lo sceglie e poi gli dice male, dice non è incapace, vabbè poi se lo tiene per il tempo che vuole e si fanno le scelte per il lavoro, per lo studio, per la famiglia, per tutto e noi siamo chiamati a fare delle scelte continuamente e oggi essere qui, essere presenti è una scelta che abbiamo voluto in scienza e coscienza e oltre ad essere presenti a mio avviso sarebbe il caso di riportare quello che dentro di noi apprezzeremo in questo pomeriggio, queste due ore che passeremo assieme. Un altro concetto importante che è venuto fuori questa mattina è il silenzio, il silenzio forse sappiamo molto bene che fa molto più rumore di tante parole, di tante frasi, silenzio e presenza. Oggi noi a caso di viviamo anche dei lutti importanti, di persone che hanno condiviso con noi un percorso di vita e che hanno lasciato i propri cari oggi in difficoltà, ma i tanti amici. Siamo stati a salutare, ad essere vicini, a testimoniare una vicinanza affettiva, ma noi abbiamo qui, abbiamo visto delle immagini, due persone che a mio avviso non moriranno mai, che sono Falcone e Borsellino. Quell'immagine che abbiamo visto tantissime volte, mi vengono i brividi, lo stavo pensando adesso mentre ero seduto, persone che hanno oltrepassato la vita terrena perché rimangono nell'immaginario di ognuno di noi, di tanti che stiamo qua, ma sicuramente di tutti che stiamo qua, perché hanno donato la vita per noi, hanno donato la vita per il prossimo, per i cittadini, seguendo un percorso di legalità, un percorso di condivisione e di vivere associato. Ed è proprio in questo modo che a mio avviso noi dobbiamo essere presenti e ascoltare, ma allo stesso tempo agire, un percorso di legalità. Con Massimiliano, io lo ringrazio perché è gente rossa, no, bisogna dirlo, è sempre presente, facciamo da tanto, ricordo il 2010, forse il primo evento, la mia affa dei colletti bianchi. Cioè, antisegnano, io in quel momento, a Casoli, sì sì, qui a Casoli fu presente, era sindaco oppure no? Neuro Corlando, c'era. E c'era, va bene. Genchi, quindi da lontano il 2010, ma da sempre che seguiamo queste tematiche, cerchiamo di fare del nostro. Una domanda che mi è piaciuta tantissimo oggi è stata questa e finisco, perché mi sono dilungato, però me l'ha detto Massimiliano di dilungarmi, io di solito non mi dilungo mai. Presidente, ma che cosa possiamo, un ragazzo, una ragazza, hanno detto i ragazzi a scuola, ma noi che cosa possiamo fare per contrastare un comportamento mafioso, un'organizzazione mafiosa, che possiamo fare? E la domanda, a me la risposta è piaciuta tantissimo, che ovviamente non ripeterò. Però è questo l'invito che vi voglio fare, preparare delle domande, delle domande che fanno parte di una vita che a noi non ci appartiene, perché il Presidente Antoci sta facendo tantissimo, hanno provato anche ad infancarlo, perché questo è un passaggio fondamentale, quanto qualcosa da fastidio non piace, c'è un'arma fondamentale, l'arma della distrazione di massa, e non far vedere, non far puntare il focus su qual è il principio fondamentale, ossia la legalità, che la mafia è una merda, scusatevi, devo passare questa parola, e si distrae con altre cose, per portare l'attenzione su altro. L'attenzione è una, il rispetto del principio di legalità, che è stata la prima domanda da una professoressa di Costituzionale, mi fece, che cos'è il principio di legalità? Il principio di legalità, sapete che cos'è? Il nostro comportamento che noi abbiamo, nella correttezza dei comportamenti. Grazie, e adesso passiamo a due ore stupende. Professore. Grazie Sindaco, io porto il saluto della dirigente scolastica Costanza Cavalieri, purtroppo ha avuto un problema di salute ricorrente in questo periodo, e quindi mi ha delegato a salutare. Io innanzitutto ringrazio e saluto il Sindaco di Casoli, il Sindaco di Casoli, l'amministrazione comunale di Casoli, è sempre vicina alle iniziative dell'Algiri Merino, è parte attiva delle nostre iniziative e della nostra scuola, quindi grazie Sindaco, lei, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale. Ringrazio Massimiliano Travaglini, delle Agende Rosse, con il quale condividiamo tante esperienze di legalità. Naturalmente ringrazio anche i due ospiti, che veramente questa mattina sono riusciti a toccare le corde più intime del nostro io. Quindi grazie al Giudice Dottor Antocci, Presidente, grazie alla Professoressa Calandra. Io dico sempre ai ragazzi a scuola, sono docente di diritto, dico sempre ai ragazzi che non bisogna solamente parlare di legalità, ma la legalità va vissuta, va vissuta nel quotidiano, va vissuta sempre nel nostro fare ogni giorno. Lei, Dottor Antocci, ha dimostrato a questi ragazzi che è vero che parla di legalità, ma soprattutto la legalità la pratica, la vive. E quindi questo credo che sia stato un grandissimo insegnamento per i nostri alunni. E sicuramente toccherà anche le corde più intime del vostro cuore oggi che siete qui presenti e vi ringrazio per la presenza. Buon ascolto a tutti. Salve, buonasera a tutti. Per chi non mi dovesse conoscere, Massimiliano Travaglini. Premetto che io sono qui da semplice cittadino di Casoli, non ho nessun merito, nessun titolo. Modero questo evento ringraziando l'amministrazione comunale di Casoli, e l'amico Massimo, la scuola, nella persona del professor Marsibilio, la dottoressa Cavaliere, la scuola con la quale stiamo collaborando oramai da 7-8 anni, portiamo avanti delle iniziative comuni, affinché questi concetti che ascolteremo oggi, nei rispettivi ruoli, con le rispettive competenze, passino ai ragazzi. Troppo spesso noi adulti ci riempiamo la bocca di buoni e sani principi, forse dovremmo avere un po' tutti, nulla di personale, un minimo di comportamenti coerenti e conseguenziali, perché sa, dottor Andoci, anche a caso, qualche nobile signore si presenta sui palchi e racconta di legalità, poi nella vita quotidiana ha gestito il territorio per molti anni, fino a stamattina alle 8 e mezza è venuto a passare davanti alla scuola per vedere come andavano i fatti. Fatta questa piccola premessa, io sono un cittadino che nel 2009 ha avuto la fortuna di conoscere Salvatore Borsellino, il fratello del dottor Paolo Borsellino, quando costituì il movimento delle Agende Rosse e noi come simbolo abbiamo questo libro, che non è altro che simbolicamente l'Agenda Rossa che è stata trafugata a pochi minuti dalla strage di Via D'Amelio, quell'Agenda Rossa che il dottor Paolo Borsellino aveva con sé e sulla quale, fino a due giorni prima, il 17 luglio 1992, aveva trascritto probabilmente i nomi di quella zona grigia, di quel terzo livello di cui parlava il dottor Giovanni Falcone, allora quando intervistò, interrogò nella sede di Roma in Via Cilena, Gaspare Mutolo, uno dei primi pentiti, che in quella circostanza fece dei nomi ben precisi all'interno delle massime cariche dello Stato, probabilmente anche quella fu l'occasione per accelerare la strage a 57 giorni da quella di Capaci. Quest'anno ricorre l'anniversario del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, c'è un'antimafia, purtroppo mi scuserete, fittizia, che viaggia con le cifre di 3, 4 e 5 zeri, noi come Movimento Agende Rosse non prendiamo soldi, ci appoggiamo alle scuole, ringrazio ancora l'Algeri Marino, in quanto questa mattina formalmente, nel tramite della mia persona, ci ha messo a disposizione una sala come sede delle Agende Rosse per portare avanti dei progetti ben strutturati, con il coinvolgimento diretto dei ragazzi. Ringrazio i tuoi relatori, non vogliono essere parole di circostanza perché la professoressa Lina Calandra, che non conoscevo, alla quale mi sono rivolto telefonicamente solo qualche settimana fa, sapevo dei suoi studi specifici sulla mafia dei Pascoli in Abruzzo, in particolar modo nell'Aquilano, poi da notizie che abbiamo, interessa anche la provincia di Chieti, pare che sia un fenomeno molto strutturato, e radicato anche in Abruzzo, e la professoressa vi evidenzierà con la sua relazione quelli che sono i dati oggettivi su questo fenomeno. Ringrazio e sono commosso, perché è anche onorato di averlo conosciuto qualche anno fa, a Palermo, scusate, e il dottor Antoci. Non sono parole di circostanza. Nel mio piccolo, io vado insieme agli amici di Abruzzo da 12 anni a Palermo in occasione della ricorrenza, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere tante persone importanti, ma non importanti anche per quello che hanno fatto, però poi osservo la dignità e l'umiltà di queste persone con le quali si confrontano e si mettono a disposizione. Io ricordo quando chiesi al dottor Antoci, tre anni fa, se non sbaglio, prima del Covid, forse quattro, mi corregga se sbaglio, dissi dottor Antoci, mi scusi per la mia invadenza, potremmo averla a caso lì, e mi disse va bene, ti faccio questa promessa. Poi c'è stato il fenomeno del Covid che per due anni ci ha tenuto bloccati e circa un mese fa, anche qualche giorno prima, due mesi fa, qualche settimana in più, mi disse Massimiliano io ho l'agenda piena in tutta Italia, frequendo le scuole, frequendo i contesti universitari, però la promessa te l'avevo fatta e ci ha dato insieme alla scuola, perché i meriti sono della scuola, dell'amministrazione comunale, io non ho nessun merito, ci ha mantenuto questa promessa a noi di Casoli, venendo di persona. Naturalmente in questi giorni, fino a qualche ora fa, si è vista la disposizione della Polizia di Stato, le auto, anche a me qualcuno mi ha scritto, ma signora che sta succedendo a Casoli, c'è tutta questa Polizia. Il dottor Antoci, per chi non lo sapesse, è stato Presidente del Parco dei Nebrodi, grazie alla sua professionalità, ma soprattutto alla sua coerenza, ha stroncato il fenomeno della mafia dei Pascoli, che drenava centinaia e centinaia di milioni di euro, e questo fenomeno naturalmente era gestito, come ci dirà lui dopo, dai capi mafiosi della Sicilia. ha subito un attentato nella notte fra il 17 e il 18 maggio del 2016, per fortuna è qui fra di noi, è uscito indenne grazie alla sua scorta della Polizia di Stato, che ringrazio sempre, e quindi nella vita io dico che ci sono delle persone che fanno in fondo il proprio dovere, sapendo di rischiare anche la propria vita, e noi a queste persone dobbiamo essere riconoscenti e grati. Non mi dilungo, passo subito la parola alla Professoressa Lina Calandra per la prima relazione di merito circostanziata su questo fenomeno, la mafia dei Pascoli, in Abruzzo. Avremo modo di ascoltarla e di ricrederci, perché spesso noi continuiamo a credere alle favolette delle isole felici, alla famosa regione d'Abruzzo, Isola Felice, Verde d'Europa, però voi sapete meglio di me che le mafie si stanno riciclando, sono passati da un metodo arcaico della Coppola e della Lupara a gestire le finanze, a infiltrarsi nei territori, spesso anche con la compiacenza di qualche soggetto che è sempre più noto, che però indegnamente rappresenta le istituzioni. Noi a queste persone dobbiamo molto. Io un anno a Palermo in occasione della ricorrenza della strage di Via D'Amelio ascoltai una madre che si rivolse a Salvatore Borsellino e disse Salvatore ti devo dire una cosa, mio figlio oltre ad essere saltato in aria in questa strage nella strage di Via D'Amelio non ha più un nome e Salvatore disse scusi signora cosa mi vuole dire? Mio figlio si chiama Scorta perché troppo spesso giustamente ricordiamo il dottor Borsellino e il dottor Falcone ma dimentichiamo di quegli uomini che hanno sacrificato la loro vita in questo caso nella strage di Via D'Amelio e io quindi li voglio citare perché ho avuto modo di conoscere i familiari Emanuela Loi la prima donna assegnata a una scorta una ragazza appena 20 anni dalla Sardegna Agostino Catalano Vincenzo Fabio Limuli Claudio Traina ed Eddie Walter Cosina e l'unico sopravvissuto di quella strage che ho avuto l'onore di conoscere è Antonio Vullo tra l'altro la settimana scorsa alcune classi le quinte dell'Algeri Marino accompagnate dai docenti il professor Marsibilio il professor D'Antonio che vedo in sala il professor Travaglini sono stati a Palermo hanno avuto la testimonianza in Via D'Amelio proprio da Antonio Vullo sotto l'albero della pace un ulivo che è stato piantato nel posto dell'esplosione voluto dalla madre del dottor Borsellino scusatemi se mi sono dilungato saluto le amiche del presidio di Libera di Tornareccio Roberto Mancini non l'allenatore Roberto Mancini è il poliziotto che ha scoperto la terra dei fuochi e morto per una leucemia solo qualche giorno fa c'è stato l'anniversario e scusate io sono anche emozionato ringrazio Alessandra per la magistrale lettura di introduzione sul concetto di democrazia di Pericre del 461 avanti Cristo ma penso che siano temi sempre più d'attualità professoressa Calandra a lei la parola se vuole dire qualcosa o va direttamente nella posizione per proiettare le slide Buonasera mi associo ovviamente ai saluti e ai ringraziamenti ma non perdo tempo perché ci tengo a che passino alcune idee e l'idea che deve passare secondo me chiara oggi approfittando della preziosa presenza del dottore Antoci è che avvengono dinamiche criminogene sul nostro territorio abruzzese legate ai pascoli e ai contributi europei quello che vi racconto perché ve la pongo sotto forma di racconto io sono una docente di geografia all'Università dell'Africa come docente oltre alla didattica all'educazione la formazione dei giovani facciamo ricerca e la geografia si fa con i piedi quindi facciamo ricerca sul territorio e quello che vedete sono le ricerche che dal 2017 a praticamente la scorsa estate abbiamo condotto nei tre parchi del Gran Sasso Monti della Laga il parco nazionale della Maiella quindi 44 comuni 39 comuni più 22 7 con un appendice il parco regionale del Sirente Velino questa ricerca l'abbiamo condotta nell'ambito di tre diversi progetti progetti uno per lo sviluppo socio-economico del territorio nel caso del Gran Sasso Laga nel caso della Maiella eravamo stati contattati dal parco della Maiella in funzione della conflittualità ambientale legata alla fauna selvatica in particolare all'orso per quanto riguarda il Sirente Velino ma addirittura insomma un progetto con il centro sperimentale di cinematografia sede dell'Abruzzo per raccontare la montagna quindi che c'entra in tutto questo la criminalità organizzata nulla pensavamo noi ma nel momento in cui vai sul territorio persona per persona perché quello che noi abbiamo fatto erano progetti diversi ma il metodo di base è lo stesso e al cuore del metodo c'è una sola domanda semplice addirittura banale ma essenziale come va sul territorio che succede tu come stai che succede nella tua azienda che succede nella tua professione cosa c'è di buono cosa c'è che non va ecco la potenza di un approccio di questo tipo è che sì c'è chi ti risponde così perché ti deve rispondere magari nel suo ruolo istituzionale ma c'è anche chi vede quella finestrella che si potrebbe aprire per dare voce a quello che non ha modo di dire di far arrivare da qualche parte allora se io oggi sono qui è perché noi abbiamo fatto una promessa nel nostro lavoro che avremmo dato voce esplicitamente c'è stato detto voi siete l'università quindi questo chiama anche la responsabilità morale civica di chi fa ricerca per chi facciamo ricerca per cosa facciamo ricerca c'è stato chiesto con le lacrime agli occhi per favore voi siete l'università potete scrivere potete raccontare potete chiamare potete andare in televisione potete andare poi forse si sopravvalutano non è esattamente così ma abbiamo fatto una promessa va bene cerchiamo di dare voce abbiamo intervistato più di mille persone ripeto una per una ore 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 di ascolto attori istituzionali operatori del territorio produttori operatori turistici servizi associazioni quindi uno spaccato di queste oltre mille persone almeno duecento segnalazioni sono state esplicite rispetto a cosa a un problema sui pascoli c'è un problema sui pascoli nelle prime interviste facevano ci dicevano non abbiamo più pascoli ora tu esci da casa dalla stalla dall'azienda dell'allevatore ti guardi intorno nel nostro Abruzzo immaginate capo imperatore migliaia di pascoli come non avete più pascoli che non ci sono più pega non ci sono più pastore non avete più pascoli come è possibile dove vanno questi pascoli e a chi vanno questi pascoli vi confesso che noi abbiamo impiegato due anni pieni per capire quello che in realtà ci si stava dicendo perché all'inizio si lo speculatore arriva quello arriva quell'altro si prende in concessione i pascoli dai comuni e noi non sappiamo più dove portare le nostre pecore è vero? devo dirlo questo quando dico noi chi noi la ricerca non la fa l'Ina Galandra cioè io so una ma i ragazzi quindi è un'occasione anche di formazione di educazione sul campo è perché per combattere la criminalità organizzata e comunque l'illegalità in generale se non passi per l'educazione per la formazione e per la conoscenza del territorio sono proclami sono sì anche manifestazioni importanti ma tu devi spenderti per conoscere quello che succede intorno a te non può essere che va a fuoco una stalla e vabbè data a fuoco e poi ne va a fuoco un'altra e poi rubano i mezzi agricoli oh rubare un trattore non è che ti stai a rubare la caramella al tappaccaio e poi spariscono in una notte 30 mucche portarsi via 30 mucche che cosa presuppone ma un'organizzazione una logistica e dove vanno queste mucche dove vanno questi trattori quindi no dicevo la ricerca non la fa l'inacalambra la fanno i ragazzi sono ragazzi di 19 20 anni 21 anni opportunamente formati opportunamente accompagnati nei primi momenti e fanno ricerca sul campo li educhiamo ad ascoltare il territorio perché quello che abbiamo imparato in questi anni è che il territorio non mente quando tu lo ascolti veramente il territorio non mente e anche se tu non capisci come noi non capivamo quando ci dicevano non abbiamo più pascoli ma perché chi ti sta parlando cioè non sa con chi sta parlando ti dice non ti dice il problema è tuo che non capisci non che l'altro ti ha detto qualcosa di rilevante se te l'ha detto è rilevante sei tu ricercatore che poi devi passare le notti a cercare di capire perché quella persona ti ha detto così perché e vi posso dire che nel giro poi di 4-5 anni stiamo capendo oltre l'immaginabile quello che succede intorno ai pascoli e ai contributi europei e noi ci siamo limitati a questa fettina dei pascoli ma il ragionamento va allargato all'intero settore dei contributi europei andrebbe quindi i ragazzi luogo per luogo persona per persona e con umiltà tu devi stare lì un'ora due ore tre ore il tempo che la persona ti tiene a raccontarti come va come sta che succede è una ricchezza straordinaria la ricerca fatta così perché vi dirò molti dei dati che ci hanno permesso di arrivare a capire quello che succede non sono i dati iscrivibili in una tabella di calcolo poi fai la percentuale poi fai la deviazione standard poi fai le tortine no molti dei dati che ci hanno permesso di capire sono dati che hanno a che fare con la paura negli occhi delle persone il senso di frustrazione di disillusione di solitudine perché quando una persona ti dice lo abbiamo detto ma non è successo niente lo dici una volta lo dici due lo dici tre lo dici quattro poi ti accorgi che non c'è più interlocutore a cui dire le cose e che devi cioè che fai che fai scusate mi sto arrabbiando allora vengo al dunque abbiamo fatto la ricerca dopodiché c'è un momento in cui ti devi fermare mettere a posto quello che hai raccolto e cercare di capire e di dare spiegazioni ad ogni cosa che ti è stata detto anche quello che ti è stato detto di sbagliato cioè di fuorviante perché immaginate abbiamo anche incontrato chi ti dice ma non succede proprio niente sui pascoli ma non succede ma sono un grande imprenditore se è gente seria che cosa succede ma chi parla dei mafia di pascoli è solo un incosciente non dovrebbe parlarne allora a un certo punto ti fermi e che cosa abbiamo cominciato a fare va bene che ci hanno detto dove stanno dove avvengono questi fenomeni chi sono i soggetti che secondo chi abbiamo intervistato fanno delle operazioni al limite tra legale e illegale e addirittura proprio illegali completamente e li abbiamo messi su una mappa su una mappa abbiamo cominciato a mettere puntini tutti i puntini sulla mappa dopodiché e vabbè questo semmai ci ritorno dopo dopodiché per ognuno di quei puntini abbiamo detto chi sono queste persone questi soggetti dove prendono i pascoli abbiamo provato da quello che si riusciva a trovare sui siti pubblici dei comuni delle amministrazioni delle regioni dove questi hanno in concessione i pascoli questi soggetti e abbiamo cominciato a vedere che si costruiva una rete enorme una rete che dall'Abruzzo va verso nord e va verso sud dopodiché mi ha detto allora qua insomma non stiamo parlando dello speculatore del furbacchione del malandrino di turno che conoscendo il sistema dice sai che io adesso ne approfitto e mi intasco milioni di euro di contributi e no qua comincia a configurarsi che questi soggetti tra di loro si conoscono si scambiano cose flussi e allora approfondiamo ulteriormente organi di stampa in rassegna organi di stampa a livello locale organi di stampa a livello nazionale e per esempio vengono fuori una serie di notizie su indagini inchieste che hanno portato anche a degli arresti insomma delle condanne o in questa indagine prima o poi emergevano questi nomi fattici in Abruzzo dice ah ma come allora sono persone note notissime magari in Piemonte in provincia di Cunio magari a Brescia magari a Cremona a Mantua per non parlare poi ovviamente della Sicilia di cui ci dirà il dottor Antoci ecco sono tutte persone note e queste lì c'hanno i procedimenti e in Abruzzo continuano ad operare continuano ad ottenere concessioni di pascoli continuano ad ottenere contributi magari non direttamente e no perché qualcuno localmente notando la possibilità di facili guadagni facili sono milioni di che è allora per l'Italia e quindi torno indietro per l'Italia parliamo allora quando parliamo dei contributi europei sulla politica agricola comune stiamo parlando della prima voce di bilancio dell'Unione Europea la prima voce di bilancio forse adesso è diventata la seconda però e stiamo parlando di oltre 400 miliardi di euro a programmazione i soldi di cui vi sto parlando io i contributi diretti agli agricoltori valgono per l'Italia ogni anno almeno 4 miliardi di euro 4 miliardi ogni anno sono contributi esentasse per l'Abruzzo non l'ho fatto il conto mi sto muovendo ormai a livello anche perché solo l'Abruzzo anche perché non riesce a capirlo solo per l'Abruzzo sai perché perché arriva il soggetto di Brescia di Mantua di Cremona di Verona del Trentino affitta i pascoli qui prende in concessione i pascoli qui ma poi l'organismo pagatore che gli attribuisce contributi è l'organismo pagatore del Veneto è l'organismo pagatore del Piemonte ma noi siamo ricercatori questa è roba investigazione da guardia di finanza non lo so da chi ma noi capiamo quello che c'è il fenomeno e poi ti fermi oh da dove nasce il problema di tutto questi contributi nasce perché nel 2005 la politica agricola comunitaria esiste da quando è stata istituita l'Unione Europea insomma la comunità europea quindi è una delle politiche più antiche dell'Unione Europea ed è un un gran bene però se adesso la situazione è diventata questa qualche professionista ci calcolava che almeno un terzo dei contributi diretti agli agricoltori se ne va in queste in questi giri malsani allora che succede nel 2005 ma vado veloce su questo è complicatissimo ma noi pure ci abbiamo messo una vita a capire perché non è la mia materia però ti metti là però certo ti metti là le ore le ore la notte e alla fine capisci allora nel 2005 fino al 2005 i contributi sull'agricoltura venivano dati in base alla produzione io produco tanto latte produco tanti agnelli produco il grano produco il tabacco e proporzionalmente insomma con tutti i calcoli avevi diritto a un contributo dal 2005 in poi cambia il sistema l'Unione Europea introduce un nuovo regolamento e dice no io non ti pago più in base alla produzione ti pago in base a un valore che ti attribuisco per ciascuna cultura che tu hai fatto dal 2000 al 2003 che viene preso come periodo di riferimento è così che si genera il titolo quindi tu producevi 10 ettari di tabacco e dal 2000 al 2003 hai ricevuto per quei 10 ettari di tabacco 100.000 euro di contributi bene fai i 10 ettari di tabacco diviso i 100.000 euro di contributo quello è il valore del titolo così per il tabacco per il pomodoro e così per il pascolo non è neanche stato preso in considerazione il risultato è che in Italia i soggetti visto con i miei occhi hanno titoli per un ettaro da 60.000 euro quindi tu prendi il tuo titolo da 60.000 euro lo appoggi perché lo devi appoggiare su un ettaro di terreno lo appoggi vuol dire devi avere un documento che dice sì quel terreno è utilizzato da me o di proprietà o concesso o in affitto o non lo so basta che tu attesti che quel ettaro è a tuo uso e hai 60.000 euro senza fare niente non devi dimostrare di produrre non devi dimostrare e hai titoli come i nostri i titoli locali insomma delle nostre aree montane è da 100 euro ma nemmeno 50 euro 90 euro quindi già in questo non c'è non c'è sono stati introdotti dei correttivi quindi la corsa all'accaparramento dei pascoli a fondamento ha questo meccanismo perverso diabolico però torno alle inchieste le indagini ufficiali eccetera quello che viene fuori ci accorgiamo ma senza andare alle carte processuali no da quelle notizie insomma un po' accessibili a tutti e ci accorgiamo e praticamente in quasi tutte queste indagini in qualche modo a qualche livello l'Abruzzo c'entra sempre o per i pascoli perché un soggetto indagato a Cuneo aveva i terreni affittati in Abruzzo affittati o forse non affittati forse dichiarati affittati in Abruzzo ma non realmente affittati in Abruzzo insomma è un casino scusate la parola comunque l'Abruzzo in qualche modo rientra sempre c'entra sempre e la nostra domanda è ma come è possibile è singolare che dal 2006 già dal 2006 cominciano indagini inchieste giudiziarie già dal 2006 l'Abruzzo risulta coinvolto nella prima inchiesta indagine per la cronaca quei personaggi dopo 10-12 anni sono stati assolti perché hanno prodotto dei testimoni che dicono che effettivamente loro gli animali alla montagna ce li hanno portati allora l'Abruzzo c'entra sempre e però in Abruzzo non cioè non parte mai niente non parte niente e la sofferenza è tanta le aziende chiudono i giovani non aprono perché se se questo è il meccanismo nel quale ti vai a mettere insomma vado alla conclusione non contenti siamo andati sulla banca pubblica del Ministero dell'Agricoltura dei titoli e ci siamo detti oh andiamoci a fare un'idea questi soggetti che ci hanno nominato di cui ci hanno fatto il nome che sono presenti in Abruzzo quanti titoli hanno di che stiamo a parlare quanto a montare ma soprattutto questi titoli nel corso degli anni dal 2005 al 2021 da dove vengono e questi titoli una volta che uno ce l'ha vanno a qualcun altro vengono ceduti che c'è qual è il mercato dei titoli allora che cosa viene fuori dall'analisi dei dati pubblici sulla banca dati del il Sian del del Ministero dell'Agricoltura che la maggior parte dei titoli non la maggior parte dei titoli la maggior parte delle aziende che cedono aziende vere o finte che cedono titoli ai soggetti che sono presenti in Abruzzo vengono dalla provincia di Foggia dalla provincia di Bari dalla provincia di Reggio Calabria e poi certo anche dalla provincia di Verona dalla provincia di Padova poi là bisogna andare a vedere che cosa c'è chi c'è però noi ci fermiamo di riflesso ci siamo chiesti pure ok questi titoli nel loro giro poi qui vengono prodotti dico io non è il termine corretto però vengono prodotti a Foggia nella provincia di Foggia nella provincia di Bari nella provincia di Reggio Calabria e poi vengono riceduti a chi ha aziende che si concentrano principalmente nella provincia dell'Aquila ed è di qualche settimana fa l'interdittiva della prefetta dell'Aquila a tre aziende agricole proprio su questa questione è un'interdittiva antimarca ovviamente del prefetto di Pescara a un'azienda agricola che sembrano tre aziende poi almeno vedendo le nostre mappe più o meno riusciamo a capire chi è chi non è allora queste sono classicamente zone che possiamo chiamare di colonizzazione il titolo viene usato per comprarsi il piccolo allevatore e dici guarda non ti passa un po' di titoli in due o tre anni ti fai 30.000 40.000 50.000 60.000 100.000 abbiamo visto delle aziende e le conosciamo perché siamo andati sul territorio magari con 15 asini e che però nel movimento titoli muovono 150.000 euro 200.000 euro 250.000 euro a dove hanno 250.000 euro che tu hai 10 asini allora questo è un esempio di un'azienda una una in provincia di Verona in viola da dove prende i titoli dove sono localizzate le aziende da dove prende i titoli in verde dove c'è dei titoli provincia dell'Aquila Oristano e poi Cugno e Alessandria Cugno e Alessandria andate su un qualsiasi quotidiano locale della provincia di Cugno di Alessandria di Torino e troverete bestie abbandonate bestie malate trovate notizie di tutti i tipi notizie che sembrano tutte slegate non è sono soggetti tra loro legati su tutta l'Italia e noi siamo partiti solo da quelli presenti in Abruzzo solo da quelli di cui ci hanno fatto i nomi qui in Abruzzo allora cioè com'è possibile che miliardi di euro che dovrebbero veramente andare allo sviluppo del territorio delle aziende della possibilità dei giovani di aprire nuove aziende finiscano in questo vortice diabolico è dal 2005 ma è possibile nessuno vede nessuno sente nessuno si accorge io ho consultato il registro pubblico del ministero come lo faccio io figuriamo può fare chiunque ma tu non vedi che nasce non una nascono magari in uno stesso paese in una stessa strada cinque aziende tutte lo stesso anno fissano ma nemmeno chissà quanto 15.000 euro ma fate 15.000 euro di titolo per 5 poi queste nel 2007 quindi tempo 2 anni 2-3 anni cedono tutti i titoli a una stessa persona a uno stesso soggetto allora perché andar dicendo queste cose perché quello che noi abbiamo visto sul territorio è gravissimo già che fondi pubblici destinati per un fine prendano un'altra strada gravissimo ma poi quello che abbiamo potuto constatare sul territorio è che quando cominciano queste dinamiche quando in un paese di 200 abitanti si insinuano questi soggetti queste logiche quello che comincia a succedere è il degrado della convivenza civile tra le persone tra chi tenta di continuare il suo lavoro onestamente e chi entra in un giro e per qualche anno si fa pure qualche soldo si compra pure la macchina il macchinone però poi degrado delle condizioni ambientali ovviamente perché poi sono animali malati non è un pascolamento corretto insomma sono poche sono tante danno fuoco qua danno fuoco qua c'è il morrone la maiella un pomperatore è un continuo degrado a livello amministrativo e politico perché chi concede i pascoli sono le amministrazioni comunali alcuni sono di competenza regionali però diciamo la più gran parte usi civici amministrazione degli usi civici e amministrazioni comunali e sai se tu un pascolo fino a ieri lo concedevi a mille euro e ti arriva il tizio con la valigetta e quattro avvocati dietro e ti dicono noi ti diamo 20.000 euro per quel pascolo e tu che fai amministratore puoi riparare la buca puoi pagare il pulmino e ci puoi fare tante cose con 20.000 euro invece che con mille e non accorgendoti però che stai consegnando il tuo territorio non si sa a quali logiche cioè non si sa a quali logiche degrado quindi anche degli ambienti professionali accademici perché io vengo dall'università e mi so zitta degrado democratico alla fine della fiera tutto questo è un degrado democratico questi sono luoghi che non io dico non appartengono più alla repubblica italiana perché poi seguono tutte altre logiche la rappresentanza finisce per seguire altri canali rischi sanitarie di salute pubblica vado avanti insicurezza e diffusione di reati connessi perché quando arrivano certe dinamiche poi non è che si fermano i pascoli anzi abbiamo potuto constatare in alcuni territori in realtà il malaffare era prima su qualche altra cosa dopodiché soldi facili e sentasse puliti che ti permettono anche di riciclare facilmente e che fai ti riconverti e diventi allevatore da trafficante di droga diventi ti apri l'azienda agricola per dire è per questo che abbiamo deciso di parlarne non stiamo più zitti basta basta non è possibile sono 20 anni basta grazie grazie a lei professoressa Lina Calandra con questa relazione accorata e coinvolgente che ha fatto luce su un fenomeno presente purtroppo in Abruzzo di fronte al quale noi tutti probabilmente abbassiamo troppo spesso la testa per quieto vivere si torna alla normalità ognuno ha i propri problemi familiari di lavoro però forse qualche attenzione in più dovremmo darla a questi fenomeni perché poi ci interessano noi tutti a questo punto senza dilungarmi cerco di introdurre nel modo migliore l'ospite diciamo l'autorevole ospite il dottor Lantoci io ho in mano il libro che ha scritto il dottor Lantoci la mafia dei pascoli il cui ricavato delle vendite viene devoluto in beneficenza è giusto dirlo e per introdurlo nel modo migliore scusate se vi rubo qualche minuto leggo l'introduzione la mafia sui nebrodi è come le foglie esiste da sempre se cade nel fango rinasce eppure in questi meravigliosi boschi profumati e circondati per decenni da un maledetto filo spinato sporco di sangue una stagione nuova difficile e tormentata si è aperta da quando dopo una lunga scia di commissariamenti alla presidenza di uno dei parchi più belli del mondo nel 2013 si è insediato un uomo che lotta per la legalità semplicemente applicando le regole e creandone di nuove Giuseppe Antoci questo è il suo nome con la sua rivoluzione dell'onestà recuperata ha scardinato un sistema di connivenze e paure che ha consentito per troppi anni all'intera mafia siciliana di incassare senza muovere un dito miliardi di euro dai fondi europei la mafia voleva la terra dei pascoli ma lui gliel'ha tolta per decenni intere famiglie mafiose delle province di Messina Catania Enna Caltanisetta Siracusa e Palermo terrorizzando gli allevatori onesti hanno affittato i terreni pubblici per poche migliaia di euro incassandone ogni anno centinaia di migliaia dall'Unione Europea un business che si calcola abbia potuto fruttare circa 3 miliardi di euro potenziali negli ultimi dieci anni e che probabilmente ha rappresentato la principale fonte di guadagno silenzioso e sicuro di Cosa Nostra per parecchio tempo nessuno vedeva nessuno sentiva nessuno si opponeva e mentre tutti pensavano alla mafia imprenditrice ed economica che ogni anno fattura il suo lurido pil sporco di sangue per miliardi di euro in Sicilia c'era un guadagno sicuro e nascosto a portata di mano che Cosa Nostra intascava regolarmente falsificando un semplice foglio di carta nella terra dei pascoli e delle mandre e questa è l'introduzione poi scusate ancora due righe qualche riga in più delle due l'ha guato ad Antoci per comprendere meglio il fenomeno e tutto ciò di cui il dottor Antoci ha patito per fortuna è qui grazie alla sua scorta lo aspettavano dietro i cespugli sigarette lupare e molotov un commando armato che lo voleva uccidere Giuseppe Antoci la notte tra il 17 e il 18 maggio 2016 è miracolosamente sopravvissuto ad un agguato in piena regola avvenuto sui Nebrodi lungo la strada tra Cesarò e San Fratello in provincia di Messina erano da poco passate le due di notte quando la sua auto una lancia tesi sblindata di ritorno a Santo Stefano di Camastra da una manifestazione tenutasi a Cesarò è stata bloccata lungo i tornanti di montagna da alcuni grossi massi collocati sulla carreggiata quando la macchina si è fermata il commando ha aperto il fuoco contro il copertone dell'auto per fortuna la blindatura della carrozzeria ha fermato i pallettoni minuti di inferno mentre gli uomini della sua scorta coraggiosamente resistevano all'assalto e tutti sarebbero morti se non fosse letteralmente piombata sul luogo dell'agguato la jeep del commissariato di Sant'Agata di Militello con a bordo il vicequestore Daniele Manganaro e l'assistente capo Tiziano Granata che seguivano a poca distanza la lanciatesis con a bordo Antoci nonostante la sequenza di colpi sparati in quella manciata di minuti nessuno è rimasto ferito il commando è riuscito a fuggire mentre la scorta è riuscita a portare al sicuro Antoci che è rimasto illeso accanto all'auto poco dopo i poliziotti hanno trovato alcune bottiglie Molotov inesplose dopo aver sparato alla ruota i guiller mafiosi volevano far saltare tutto lanciandole sulla vettura costringendo gli occupanti ad uscire intossicati da arrovo per poi finirli in quella strada sperduta di campagna poteva essere una strage invece noi dottor Antoci fortunatamente miracolosamente ce l'abbiamo qui orgogliosi e fieri di averlo qui a Casoli la ringrazio ancora dottor Antoci e le passo la parola gentilmente se vuol venire sul tavolo del relatore grazie 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 Massimiliano buonasera buonasera a tutti questa bellissima giornata sindaco stamattina ci siamo detti abbiamo fatto il pieno con questi ragazzi professore con questi ragazzi che ci hanno accompagnato più che ascoltato che ci danno la forza di capire e la responsabilità di un mondo di ragazzi che io incontro per scuole università in tutto il paese migliaia di ragazzi che non mi hanno mai deluso come oggi che hanno prestato la massima attenzione che hanno interloquito e sono loro che ci educano in fondo anche con gli sguardi a volte anche con il silenzio permettetemi di ringraziare le forze dell'ordine che qui ci hanno accompagnato per tutta la giornata ringrazio gli uomini della mia scorta e la questura di Chieti ringrazio il gruppo Cinofili e tutti coloro che si sono occupati della sicurezza l'arma dei carabinieri e lo so io creo un po' di scompigio quando quando mi muovo questa cosa mi crea un po' di imbarazzo ma penso anche a volte che l'essere accompagnato l'essere stato accompagnato da questi grandi uomini dello Stato mi ha consentito di tornare a casa da mia moglie e dalle mie figlie e oggi mi consente di essere qui insieme a voi a raccontare in fondo una partita vinta contro la mafia ed è da questo che vorrei partire ma anche da alcune parole utilizzate prima dal sindaco anche da Massimiliano si è parlato molto di silenzio in fondo si è parlato anche molto di silenzio rispetto al lavoro della professoressa Cavallo perché a volte le parole infastidiscono su questi temi a volte i fatti infastidiscono anzi in un'intervista che ho rilasciato a Rai ho detto che l'Abruzzo deve tenere le antenne dritte ho detto che non ci sono territori esenti nel nostro paese dove loro non si infiltrano ho detto anche che questo è un territorio che è stato coinvolto nell'operazione Nebrodi una delle operazioni antimafia più importante mai svolte in Sicilia che ha provocato uno dei maxiprocessi più importanti della storia della lotta alla mafia in corso in questo momento a Messina che ha visto già al rito abbreviato con danni pesantissime per 25 anni confermata dall'appello proprio ieri perché cito l'operazione Nebrodi perché nell'operazione Nebrodi c'erano i terreni della Bruzzo nell'operazione Nebrodi nei fascicoli dei mafiosi c'erano terreni di alcuni comuni dell'Abruzzo perché dell'Abruzzo vedete il silenzio la sottovalutazione significa non avere gli anticorpi e gli anticorpi vanno creati non col silenzio con le parole con i fatti con quelle relazioni affinché le persone capiscano quali sono i primi tentativi le prime attenzioni perché loro iniziano così iniziano con le intimidazioni se non fai questo ti rubo gli animali se non fai questo ti brucio l'azienda agricola se non fai questo ti faccio altre minacce ti faccio capire che forse è meglio che te ne vai che forse è meglio che il terreno lo dai a me o lo svendi perché noi attraverso questo io attraverso questa operazione poi faccio i milioni di euro non le centinaia di migliaia ai milioni e allora noi non solo non siamo stati in silenzio noi quando abbiamo capito che bisognava scegliere noi abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere guardate io è una cosa alla quale credo molto non ci abbiamo bisogno di atti di eroismo abbiamo bisogno soltanto di persone che fanno il proprio dovere fino in fondo dicevo stamattina ragazzi ma riflettiamo il nostro paese ha la migliore normativa antimafia d'Europa e del mondo ma se poi ci riflettiamo un attimo ne abbiamo un'altra ancora migliore più importante dalla quale ripartire che è la Costituzione che è il dovere di cittadinanza basterebbe quella vedete in una in un video che Papa Francesco ha inviato in occasione della a Verona del premio dottrina sociale della Chiesa prima che Cardinal Bassetti mi chiamasse per ricevere per consegnarmi il premio disse una cosa bellissima nella vita ci sono delle persone che vanno in alcuni posti pensando di fare qualcosa e poi invece si trovano a farne un'altra o anche un'altra è una cosa che ci siamo ripetuti proprio qualche settimana fa andando a tanto padre con mia moglie e le mie figlie questo concetto del dono della missione che in fondo si sposa con quella normalità di cui parlavo io perché alla fine io penso che alla base delle scelte delle persone ci devono essere i valori e perché cito quel messaggio di Papa Francesco che uno va in un posto e poi fa un'altra cosa o anche un'altra cosa perché guardate che io in fondo sono andato a fare il presidente di un'area protetta io non ho mai scelto di andare a combattere o danneggiare o inimicarmi non solo la mafia siciliana ma oggi le mafie è il nostro paese mi sono trovato è un po' quello che diceva Borsellino in alcuni contesti e a quel punto però se ti trovi ti trovi davanti anche a una scelta ti trovi davanti anche a un momento in cui tu ti interroghi in un momento in cui magari hai paura vedete questa vicenda in fondo inizia proprio per tutelare salvaguardare e difendere professoressa proprio degli agricoltori io mi insedio in questo parco bellissimo oggi dicevo ai ragazzi un posto meraviglioso pensate che 86.000 ettori su tre province fra Messina Catania ed Enna un posto dal quale vi invito ad andarlo a visitare si riesce ad avere alle spalle il vulcano dell'Etna di fronti il bosco i laghi il mare e le isole Ori contemporaneamente è uno spettacolo della natura un posto bellissimo il cui ente era commissariato da dieci anni da dieci anni e in 25 anni io sono stato il secondo presidente solamente il secondo presidente però all'inizio del mio mandato un funzionale di polizia con un sindaco mi raccontarono di questi agricoltori all'entroterra della Sicilia che venivano vessati umiliati intimiditi perché non dovevano permettersi di partecipare ai bandi pubblici per gli affitti dei terreni era una cosa che non dovevano fare chi ci ha provato ci ha perso la vita e io non capivo ho cercato di capire ho cercato di leggere ho cominciato a studiare e lì mi è venuto un po' il soccorso il patrimonio della mia vita il mio lavoro l'essere uomo d'azienda e ho approfondito e ho cominciato a leggere i numeri e quando ho capito che quell'investimento di affitto di terreno generava un ritorno del più del 2000% neanche il mercato della droga ho detto qui c'è qualcosa che non va e a quel punto ho cominciato a cercare di capire ma chi sono questi soggetti che regolarmente solo loro partecipano ai bandi e vincono e cominciamo a scoprire che erano soggetti alcuni nella migliore delle ipotesi dunque legati a famiglie mafiose altre volte proprio loro proprio loro i capi e allora dici beh perché soprattutto come avviene questo e a quel punto comincio a scoprire il metodo qual era il metodo per tenere lontano le brave persone gli agricoltori onesti che sono poi la maggior parte il metodo era quello di partecipare a quei bandi creando una società mettendono dentro nei soci 4-5 nomi di calibro mafioso importante e dunque il primo effetto era quello che le persone per bene si impaurivano e non partecipavano e la serie io contro quelli non mi metto ecco perché i bandi erano monopartecipati gli incrementi di 1 euro 2 euro quindi sostanzialmente nulla e il bando veniva giudicato poi loro che facevano ancora un passo in più nella programmazione europea quando tu vai a chiedere un finanziamento sulla particella di cui chiede il finanziamento dichiari se fa il pascolo se fa il seminativo se fa il biologico alcune misure regolarmente nella normalità loro no sulla stessa particella chiedevano più contribuzioni seminativo pascolo biologico è come se quel terreno avesse una coltivazione biologica e contemporaneamente ci passassero sopra gli animali ma anche lì silenzio di chi doveva controllare anche lì qualcuno che ci ha provato veniva nella migliore delle ipotesi intimidito in altri considerate che ci sono una serie di omicidi non risolti negli ultimi dieci anni che fanno pensare tra cui un sindaco sparato in faccia sotto casa sindaco di quel comune dove io ero quella sera prima di partire io ci sarò per tornare a casa e allora vedete voi mi chiedete ma chi erano queste persone che affittavano questi terreni e vincevano i bandi saranno stati dei mafiosetti così e invece no Gaetano Riina fratello di Totò le famiglie Santa Paola Ercolano in Calabria i Pelle i Pesce i Gallico in Mancuso tutti i reggenti di Cosa Nostra delle province siciliane loro diretti i bonifici andavano a loro tutto questo lo facevamo mentre commemoravamo le vittime delle stragi cioè noi eravamo all'aula bunker a commemorare le vittime delle stragi e magari in quei momenti i flussi di bonifici bancari andavano a finire nei conti correnti di chi quelle stragi ha contribuito ad armarle oggi parlavo con i ragazzi e dicevo ma ma quando tu cominci a capire che c'è una vicenda di questa e ti cominci a chiedere ma come può un mafioso di calibro importante come quelli che ho detto partecipare a un bando pubblico addirittura a drenare risorse pubbliche ma era semplice perché loro utilizzavano la legge sugli appalti cosa dice la legge sugli appalti per importi a base d'asta superiore a 150.000 euro occorre il certificato antimafia che è quello rilasciato dalle prefetture e i suoi appositi istruttori delle forze dell'ordine sotto quella soglia basta l'autocertificazione quindi loro che facevano ma non che facevano l'altro giorno che facevano da 18 anni si dividevano i pezzetti della stessa particella quindi 100 ettari 50 ettari arrivavano anche a 1000 1200 ettari ma divisa in tutti i componenti familiari quindi rimanendo sotto soglia e dunque autocertificavano di essere a posto con le norme antimafia proprio quelli e allora quando ovviamente queste sono cose che noi scopriamo col tempo intanto torniamo indietro e noi siamo sempre nella fase in cui volevamo difendere quei 4-5 non pensavamo alla mafia però capiamo che quei mafiosetti comunque autocertificavano comunque mettevano non dicevano la verità nelle cose che scrivevano e allora abbiamo capito che il problema era la foglia e quindi andai dal prefetto di Messina Stefano Trotta grande prefetto di questo paese il lago che è stato anche al lago e disse prefetto guardi noi abbiamo un problema enorme che è la soglia cioè noi dobbiamo cercare di abbattere questa soglia quantomeno per capire cosa accade e così creiamo questo protocollo di legalità firmato da tutti i comuni del parco i 24 comuni del parco dove di fatto diciamo da questo momento nel territorio poi anche firmato dalla regione e quindi ampliato agli enti regionali da questo momento in poi tutte i bandi dove c'è contribuzione europea di fondi europei per l'agricoltura ci vuole il certificato antimafia non più l'autocertificazione e noi non sapevamo di avere scoperchiato una delle fonti di finanziamento più importanti è le mafie ma loro sì e quindi mentre noi mandiamo in bozza il protocollo ai comuni una domenica mi chiamo il capo della squadra mobile e mi dice presidente i magistrati della distrettuale antimafia di Caltanissetta lei vorrebbero parlare e io gli dissi vabbè guardi domani ho un impegno sono a Roma verrò dopo domani e lui mi disse no presidente è una cosa urgente sposti l'impegno a Roma venga domani e quindi io andrei a Caltanissetta parlai con i magistrati parliamo del protocollo che stavamo facendo e poi prima di andare via il sostituto procuratore il dottore Condorelli mi dice guardi in realtà noi l'abbiamo fatta venire per dirle che appena lei esce da qua noi chiediamo al comitato all'ordine di sicurezza di metterla sotto scorta con effetto immediato e io lo guardai e ho detto ma scusi ma cosa dice come sotto scorta ma di che io ho una moglie e tre figli ho detto devo pure vivere con la mia famiglia e lui mi guardò e mi disse presidente all'ordine del giorno non c'è che lei viva con la sua famiglia ma che lei viva e io non capivo poi ho capito ma non capivo in quel momento non capivo neanche che cosa significava essere sotto scorta e vedete poi dopo un anno quando iniziarono i primi arresti per il protocollo e quindi la distrettore antimafia proprio di Caltanissetta la Guardia di Finanza arrestò le prime persone per l'associazione di stampo mafioso legate al protocollo di legalità ai fondi europei per l'agricoltura scoprì che proprio mentre noi costruivamo il protocollo e lo avevamo mandato in bozza un summit di mafia diceva a questo cornuto gli dobbiamo sparare nel cervello ci sta rovinando però però io non lo sapevo e quindi quel giorno rimasi molto turbato però è come ognuno di voi nella vita avrà fatto tante scelte avrà trovato tanti bivi cose più o meno importanti e avrà fatto sempre una scelta a volte giusta a volte no e io mi sono trovato a farne una decidere se fermarmi e dimettermi avendo percepito che c'era un problema oppure andare avanti mi dicevo stamattina mi ricordo proprio il punto dove ero quando io invece ho deciso di andare avanti ero per strada vicino a uno svincolo dell'autostrada e mi girai guardai questo paese Cefalù quel mare quel posto turistico bello e pensai alla mia terra e pensai a quanto è stata umiliata in questi anni alla mafia e a quel punto io ho detto no io non posso fermarmi e allora loro nelle intercettazioni spesso decine ormai quello che dicono sempre ah Mantoci è un cornuto e soprattutto è più sbirro degli sbirri che poi per me è anche un onore in considerazione che ci sono stato nelle forze dell'ordine però questo dicevano e allora io ho fatto una cosa in più perché dicevano questo perché loro sono impazziti quando io non solo non mi sono fermato ma sono andato oltre il parco non aveva grandi terreni di proprietà perché erano tutti i terreni dei comuni delle regioni della regione erano all'interno dell'area protetta ma non erano del parco io avrei potuto sindaco sotto il profilo amministrativo non occuparmi non erano fatti miei avrei detto ai sindaci veditela tu però aveva un terreno il comune di 400 scusate il parco di 400 ettari dove aveva già con una collaborazione dell'università di palermo biologica era una cosa molto importante dal punto di vista scientifico chiaro che l'ultima cosa che avrei potuto fare è quella di metterla a bando per il pascolo ma io l'ho misi a bando per il pascolo e feci scadere questo bando 10 giorni prima la firma del protocollo di legalità e non lo dissi a nessuno solo i magistrati voglio vedere che succede cosa succede metodo fanno una società mettono dentro quattro nomi bando monopartecipato si chiude il bando quindi gli uffici dicono beh è tutto a posto possiamo assegnare il terreno no no visto che c'è il protocollo fra 10 giorni lo fermiamo facciamo il primo controllo firmiamo il protocollo l'indomani scrivo al prefetto esenzia per gli effetti dell'articolo 3 del protocollo di legalità le chiedo di controllare società e nomi bene quattro nomi quattro interdittive antimafie 416 bis associazioni stampo mafiosa estorsioni tentati omicidi insomma imbarazzanti imbarazzanti ma anche preoccupanti quindi io non solo annullai il bando ma li denunciai alla procura della repubblica per false attestazioni perché? perché avevano fatto l'autocertificazione e quindi in quel momento loro hanno capito l'entità devastante del protocollo cosa fanno? io intanto vengo messo sotto scorta subito a quella data dopo due giorni intanto mi viene aumentata la scorta con un'auto blindata anche lì non capivo capivo che c'erano delle tensioni poi dagli atti di indagine si legge che i carabinieri del ROS scoprono in un summit di mafia la decisione ci vogliono cinque colpi per farla finita siamo al 2016 e a circa due mesi all'attentato loro tentano di bloccare il protocollo anche con le vie legali quindi quelle interdittive sono state spiccate e vengono assunte e contestate dal Tribunale Amministrativo Regionale il Tar si prende circa un mese perché loro chiedono la sospensiva del provvedimento dicendo il protocollo di Antoci col prefetto è un atto pattizio non ha valore di legge intanto chiediamo la sospensiva e invece il Tar non solo non gli dà la sospensiva ma entra nel provvedimento già nel merito parlando di infiltrazioni mafiose di condizionamenti nelle aziende insomma di fatto fa diventare quel pezzo in quel pezzo di territorio quel protocollo norma e ancora noi non avevamo capito e allora a un certo punto anche in Calabria si comincia a muovere qualcosa e in Calabria vengo chiamato da due consiglieri regionali della Calabria un giorno mi dicono sa Presidente noi stiamo discutendo della vendita dei treni dei maniali per evitare che vanno all'andragata cosa possiamo fare questo protocollo sta andando bene in Sicilia io come voi ricevo 20 telefonate al giorno l'ho considerato una telefonata normale come le altre ho dato dei consigli e finito là dopo due giorni la norma viene bloccata il consiglio regionale della Calabria con la motivazione vediamo di mutuare il protocollo antoce che in Sicilia sta facendo buoni risultati la stampa calabrese in arrivo anche in Calabria il protocollo antoce vedete quando oggi noi leggiamo gli atti di indagine ormai definitivi e ci rendiamo conto che in quei terreni nei fascicoli aziendali di quei mafiosi di portanti c'era un pezzo della pista dell'aeroporto di Punta Raisi che risultava biologico c'era un pezzo del terreno del muos la base nata di Niscemi nei fascicoli aziendali dei mafiosi c'erano i parcheggi dei supermercati di Castelvetrano in cemento che risultavano biologici c'erano i terreni dei comuni dell'Abruzzo c'era un campo di calcio a Reggio Calabria loro sapevano cosa noi stavamo toccando noi ancora no sono in Sicilia nella programmazione precedente questi numeri sono valsi 5,3 miliardi di euro lo sapete a quanto sono arrivate le interdittive antimafia sull'istruito 83% ce l'avevano in mano tutti loro e ce l'avevano in mano loro a discapito di chi si alzava la mattina alle 4 a sparcarsi la schiena il giudice per le indagini preliminari dell'operazione Nebrodi che ha portato all'arresto di 111 persone i carabinieri rossi della guardia di finanza e il sequestro di 150 aziende agricole sequestrate per mafia alcune delle quali mai esistite nei territori ha parlato di un territorio di anime morte di persone che non riuscirono a ribellarsi di persone di un territorio tenuto sotto scacco da questi da questi personaggi vedete noi abbiamo fatto solamente il nostro dovere abbiamo in fondo riportato una vicenda vergognosa nell'alveo della normalità se questo è significato colpire in maniera pesantissima dopo la legge rognoni la torre i patrimoni delle mafie ci fa piacere la lotta alla mafia va praticata non va predicata di mafia bisogna parlarne professoressa perché noi abbiamo un'esperienza in questo paese che è l'Emilia Romagna dove un grande prefetto della Repubblica Antonella De Miro quando arrivò e cominciò a spiccare le interdittive antimafia fu attaccata pesantemente dicendo che sporcava il territorio perché di mafia non se ne doveva parlare perché la mafia non esisteva e la mafia non esiste in nessun posto si è generato il secondo maxiprocesso della storia d'Italia con 440 imputati l'Andrangata si era infiltrata in tutto il sistema istituzionale produttivo sociale dell'Emilia Romagna era tardi era tardi e Antonella De Miro ha fatto un buon lavoro e allora vedete come come in fondo le cose appartengono non appartengono a un territorio e le attenzioni e le antenne vanno tenute dritte ovunque e allora pensare che da un piccolo territorio nasce un protocollo di legalità che poi viene firmato da tutti i prefetti della Sicilia che il 27 di settembre 2017 diventa legge dello Stato italiano approvato in Parlamento nei tre cardini del nuovo codice antimafia e di ascoltare e vedere la Commissione europea che scrivendo agli Stati membri con un'apposita nota dice noi non mi possiamo imporre una norma una legge sappiamo che ci sono infiltrazioni mafiose in altri Stati cita la Corsica cita la Slovacchia ricorderete Jean Kuzak giornalista ucciso e giustiziato insieme alla fidanzata di Slovacchia la terza persona giornalista che doveva andare a quell'incontro per un caso fortuito non è andata si è salvata la vita e mi ha intervistato e alla fine dell'intervista è scoppiata a piangere e io non capivo e mi disse presidente Jean sopra la tastiera del computer aveva un bigliettino con la scritta protocollo antoci e questa nota della Commissione europea dice noi non mi possiamo imporre una norma ma mi invitiamo a seguire le orme del protocollo antoci diventato legge dello Stato in Italia che è uno strumento eloquente per impattare queste problematiche di infiltrazioni mafiose noi non pensavamo di arrivare a tanto perché il nostro impegno era per quei 4 o 5 agricoltori che è diventato poi uno strumento importante che tutela tanti agricoltori nel nostro paese ma che tutela soprattutto la dignità di questo paese che non può consentire da un lato di combattere le mafie e dall'altro lato di fare arrivare a mafiosi di cali e lo importante non fondi pubblici vedete non sono scelte facili io ho un regime di sicurezza fra i più alti in Italia ho casa presidiata dall'esercito ho le mie figlie che vanno a scuola accompagnate dai carabinieri e penso molto spesso alla libertà e quando ci penso voi penserete Antoci riflette che non è più un uomo libero sì inizia così la mia riflessione in fondo ma finisce sempre con la consapevolezza che io forse sono più libero adesso che prima perché vedete io sono assolutamente convinto lo dicevo oggi ai ragazzi a scuola sono convinto che nella vita ci siano vari modi per morire e vi vi faccio questa riflessione invitandovi poi a rifletterci perché non vale questo solamente per le problematiche di lotta alla mafia o per le varie scelte che si fanno io penso che sia un concetto che riguarda la vita riguardi la vita beh io sarei potuto morire in quell'attentato gravissimo il primo a un uomo delle istituzioni dopo le stragi del 92 sarei morto io gli uomini e la mia scorta saremmo morti le lapidi le commemorazioni saremmo stati in quell'elenco che viene letto e saremmo morti una volta sola e poi c'è un altro modo per morire che è quello di alzarsi la mattina andare davanti allo specchio per farsi la barba guardarsi e sentirsi sporchi sporchi avere la consapevolezza di non poter passare nell'altra stanza incrociare tua figlia che si alza la mattina per andare a scuola e non potergli più dire guarda che la vita va vissuta con rettitudine non bisogna abbassare mai lo sguardo non lo puoi più fare e a quel punto muori ogni giorno ogni giorno che ti alzi e ti guardi allo specchio io ho capito che le cose si mettevano molto male mi è stato detto in maniera chiara ma ho preferito rischiare di morire una volta piuttosto che morire ogni giorno ed è in fondo quello che abbiamo scelto insieme con la mia famiglia che è la mia forza perché tutte le scelte più difficili le abbiamo prese insieme tutti i momenti dei passaggi più importanti di questa vicenda io li ho vissuti con loro perché in fondo io rifletto molto e penso che in questa vicenda in fondo io non ho voluto fare sindaco il bravo amministratore io prioritariamente ho voluto fare il buon padre cioè ho voluto essere degno di essere papà delle mie figlie ma non per loro per me e quando ho capito e c'è scritto in questo libro quando mi è stato detto in un certo momento presidente guardi lei non vada velocemente nei posti senza dirci niente noi abbiamo bisogno di fare le bonifiche guardi che lei rischia veramente la vita ma tu non avevi capito che tu eri già sottoscritto non avevi capito sì però quando ti si dice così a bruciapelo ti rendi conto che c'è qualcosa dietro poi ovviamente le carte di indagine di vari processi hanno fatto venire fuori le varie simpatie degli interlocutori nei miei confronti e io quella sera tornai a casa e trovai mia moglie e le mie figlie sedute a cena e ho detto soprattutto alle mie figlie non scappate con un facebook telefonino ho bisogno di parlare con voi e dissi soprattutto a loro ma anche a mia moglie guardate papà rischia la vita se voi pensate che io debba fermarmi che non ne vale la pena che che siete stanche voi non vi dovete vergognare di chiederlo è un vostro diritto io non lo so cosa farò ma voi non vi dovete vergognare come raccontavo stamattina nessuna risposta solo sguardi silenzio sono andati a dormire senza una parola io quella sera sono stato veramente male e non ho chiuso occhio ma credetemi non tanto per la paura che avevo dentro di quello che mi avevano detto ma per quegli sguardi ed è stata l'unica volta in questi lunghi otto anni che ho pensato di avere rovinato una famiglia con le mie scelte l'indomani mattina mia figlia la più grande poi ho scoperto che erano state tutte e tre nella loro stanza a parlare fino alle tre del mattino mi chiamò e mi disse papà ti devo parlare e io disse Irene quando esci da scuola ci vediamo e parliamo e mi disse no no papà mi sono fatta venire a prendere prima a scuola da nonno sono già a casa vieni a casa ho bisogno di parlare con te arrivai a casa e la trovai seduta nello stesso posto dove era la sera prima e ricordo perfettamente i suoi occhi quando mi disse siediti mi sono seduto lei strizzò gli occhi e mi disse papà devi fare una cosa per me lo devi fare per le mie sorelle oggi dicevo a scuola una cosa anche strana che ha detto la racconto sempre lo devi fare per le mie compagne fallo per questa terra non ti fermare tanto ci siamo noi con te le mie figlie allora avevano Irene andava al terzo anno la media andava al primo liceo e la piccola in terza media noi ci siamo noi ed è lo stesso noi di quando mi portarono a casa dopo l'attentato dopo l'ospedale e noi le abbiamo fatte preparare dal piano di sopra scendere vestite pronte per andare a scuola avevano lo zaino e abbiamo detto a scuola non potete andare e si raccontava oggi agli alunni della scuola che mia figlia ha detto ma papà c'ho compito di latino e allora il questore che mi aveva accompagnato le disse in maniera molto diretta papà ha subito un attentato e noi ci siamo abbracciati tutti e cinque e abbiamo pianto e loro anche quella mattina anche in quei momenti non preoccuparti papà tanto ci siamo noi e allora vedete questo non è il noi della mia famiglia questo è il noi di questa giornata qui Massimiliano con questi splendidi ragazzi professori che oggi ci hanno dato tanti segnali con i loro sguardi con il loro coinvolgimento anche con i loro silenzi con le loro domande e il noi di stasera qui in questa splendida cittadina del vostro silenzio e questo noi vince perché in fondo il protagonista di questa vicenda non è Antoci è il silenzio è il silenzio di tutti questi lunghi anni dove tutti sapevano e nessuno faceva nulla e il silenzio all'interno del quale ci sono altri due protagonisti le paure e le connivenze dicevo io le paure le rispetto è un sentimento che conosco che mi accompagna vanno trasformate in coraggio in consapevolezza in dignità le connivenzano per le connivenze ci ha pensato ci sta pensando la magistratura e le forze dell'ordine continueranno a pensarci anche perché i miliardi già evidenziati nelle indagini e lucrati alcuni dei quali stanno ritornando allo Stato perché sequestrati con provvedimenti della magistratura di importi notevolissimi quei miliardi devono tornare alle persone per bene perché guardate noi siamo più di loro cioè le persone per bene in questo paese siamo più di loro e che noi riusciamo a capire che dobbiamo unirci nel segno del dovere di cittadinanza nel segno della dell'esercizio concreto della buona amministrazione nel segno del rispetto dei morti perché per quelle norme che questo paese ha approvato spesso con il sangue in questi giorni giorno 30 abbiamo commemorato il 40esimo anniversario della morte di Piola Torre quella norma è stata approvata dopo la sua uccisione ma anche dopo quella di Carlo Alberto dalla Chiesa il 3 settembre Falcone e Borsellino vengono uccisi per aver creato il doppio binario la legge sui pentiti tutto quello che disarcionava cosa nostra e le mafie in fondo anche la nostra legge è stata approvata in Parlamento perché tra un po' altro sangue sarebbe rimasto per la strada e allora vedete questa è una una storia che nel trentennale delle stragi non solo noi raccontiamo ne parlavo con Maria Falcone altro giorno quando sono andata a trovarla per alcuni impegni che abbiamo insieme in questo mese questa è una storia dove la mafia perde ma dove i quasi morti restano vivi e reagiscono perché noi dobbiamo partire da un altro punto di vista cosa significa reagire reagire significa collocare le persone nel giusto posto ma quali uomini d'onore ma che uomini d'onore ma gli uomini d'onore si nascondono stanno latitanti per vent'anni per venticinque anni in condizioni pietose con i simboli delle madonne bestemmiando davanti a quel simbolo già verli davanti è una bestemmia uomini uomini d'onore sono stato ad Aversa l'altro giorno ricordavo stamattina e prima di incontrare circa ottocento studenti mi hanno voluto parlare i familiari dei bambini che si sono ammalati di tumore per la terra dei fuochi e due genitori che mi hanno raccontato che la figlia si ammala a otto anni e a dieci muore e prima di morire dice mamma papà non dovete piangere per me promettetemelo dovete però impegnarvi affinché non accada mai più quello che è accaduto a me uomini d'onore e allora io quando il giornalista dell'ansa mi ha chiesto cosa pensasse della camorra gli ho detto quello che appena gli ho detto che schiamone e zagaria sono dei vigliacchi assassini che hanno avvelenato un territorio facendo morire uomini donne e bambini che uomini d'onore sono vigliacchi in una intercettazione telefonica di vent'anni fa parlano e dicono si ma intanto mettiamo poi fra vent'anni casomai si pensa moriamo tutti bisogna stare lontani da queste persone bisogna capire che anche pagare un euro di pizzo non è essere impauriti ma è essere complici il silenzio e prendo prestito le parole del presidente Mattarella pronunciate al quarantesimo anniversario della morte di Giorgio Ambrosoli Mattarella dice attenzione se da un lato c'è la mafia la corruzione la criminalità organizzata e dall'altro c'è chi la combatte rimanere in mezzo pensando tanto mi faccio i fatti miei non è quel silenzio non aiuta chi combatte le mafie aiuta la mafia aiuta la corruzione aiuta l'illegalità non significa essere innocui significa essere complici e allora dice beh ho capito però ognuno di noi ha le nostre paure ma certo ma ve lo dice uno che ci vive con la paura però vi prego ricordatevi di quello specchio ricordatevi che ognuno di noi deve fare il conto con le nostre coscienze io lo so che ci sono tante persone fuori dai fari che che denunciano e che poi si trovano le persone che hanno denunciato sotto casa lo so quelle sono persone da ammirare e e dobbiamo stare vicino a loro ma si sta vicino a loro quando questa diventa una regola non quando quelli sono un'eccezione perché si sovrispongono quelle persone e allora qui c'è libera con questo nome dedicato io conobbi la moglie c'è la figlia di Mancini al premio legalità Campania io fui premiato e c'erano loro e la figlia Alessia era proprio da poco aveva fatto il giuramento in polizia io la abbracciai e le dissi bene cosa vuoi fare e questa ragazza mi disse presidente io voglio andare a lavorare là dove mio padre sia ammalato voglio continuare quello che lui ha fatto questo paese è fatto di questa gente questo paese è pieno di gente che ha valori che mette impegno e allora vedete come si sminuisce tutto questo questo concetto di eroi quando Camilleri fece quell'intervista a Rai 1 dicendo Antoci è un eroe dei nostri tempi e io non lo conoscevo di presenza ho chiesto di andarla a trovare a casa e gli dissi maestro guardi le posso dire io la ringrazio ma se io non mi trovo d'accordo con lei perché non abbiamo bisogno di eroi in questo paese e lui mi bacchettò e mi disse eh no e allora non sei stato attento perché io ho continuato e ho detto Antoci è un eroe dei nostri tempi perché fa solamente quotidianamente il proprio lavoro e allora vedete come tutto torna alla normalità anche le scelte più difficili anche vivere una vita difficile come quella che vivo io con la mia famiglia diventa tutto così normale che è quasi disarmante quanta normalità c'è dietro tante scelte e tante persone ed è vero che non abbiamo bisogno di eroi però vi garantisco che in questa vicenda non è vero che non ci sono eroi perché gli uomini della mia scorta e della polizia di stato che quella notte con un terribile conflitto a fuoco rischiando la loro vita mi hanno riportato a casa da mia moglie e dalle mie figlie ecco lì loro sono eroi guardate io ovviamente sono qui qualsiasi domanda però vorrei anche chiudere con una cosa che ho detto stamattina ai ragazzi alle scuole a scuola perché poi io lo so che questo accade in questa vicenda ho raccontato oggi a tavola un paio di episodi che hanno tentato come hanno fatto con tutti con Falcone con Morsellino con Piola Torra con Mattarella con Peppino Impastato tutti qualcuno mi ha detto ma tu pensavi di stare fuori da questa cosa e hanno tentato di farlo anche con me c'è una vicenda diversa rispetto alla storia del mascaramento così si chiama della Sicilia è uno spartiacque che è proprio Antonci perché gli altri hanno provato hanno tentato ricordatevi Falcone che si era messo il tritoro da solo Borsellino che era protagonista Impastato che si era l'avevano fatto saltare lui aveva saltato in aria perché stava facendo lui l'ha tentato con il su tre tutti per fermare me hanno usato di tutto oggi raccontavo che noi non uscivamo noi abbiamo una vita complicata quindi preferiamo non uscire vi sarete rese conto un po' dello scompiglio che creiamo quindi però noi stavamo andando a un matrimonio perché si sposava il figlio di un mio carissimo amico e quindi pur non andando in chiesa la sera però dovevamo essere là io mi stavo vestendo quando a un certo punto mi chiamo e dice ma hai visto cosa c'è su internet sulla stampa ma che c'è leggi 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 io chiudo mi collego titolo mia moglie di cognome si chiama Rampulla come il portiere della Juventus chi segue il calcio io non lo seguo però so che ci sono due squadre con due maglietti diverse un omino che fischia e qualche cognome lo conosco questo Rampulla era il siciliano portiere della Juventus comunque mia moglie si chiama Rampulla e si chiama Rampulla come i fratelli Rampulla artificieri della strage di Capaci mica di bene titolo la moglie dell'eroe già dell'eroe dell'antimafia Antoci nipote di Maria Rampulla sorella dei fratelli Rampulla artificieri della strage di Capaci dopo due minuti e quaranta secondi lo dicono le indagini questo parte da Messina da una giornalista un altro giornalista da Grigento due minuti e quaranta secondi chiunque capisce che se tu in due minuti e quaranta scrivi un articolo e addirittura lo modifichi è matematicamente impossibile dicono gli atti di indagini o lo sapevi prima oppure ma a quel punto cambia non è più la moglie Antoci l'eroe dell'antimafia nipote dei fratelli Rampulla artificieri della strage di Capaci ma come fa Antoci a fare la lotta alla mafia se è nipote beh diciamo che noi non siamo andati al matrimonio perché mia moglie è finita in ospedale tutta piena di bolle rosse nel corpo e i battiti impazziti ovviamente tutto falso ovviamente tutti condannati e noi avevano iniziato i magistrati hanno detto Presidente hanno cominciato poi sono andati avanti hanno pure coinvolto e pure qualcuno qualche politicante da strapazzo che è cominciato a mettere la sua insomma alla fine tutti colpiti e condannati cioè lo spartiacque fra il mascaramento prima e il mascaramento dopo e che da ora in questa vicenda sono stati condannati colpiti e condannati ma perché vi racconto tutto questo? perché uno che conosce questa vicenda che la legge a un certo punto dice ma scusate fatemi capire ma uno va a fare il Presidente di un'area protetta si trova a combattere la mafia perde la libertà sua e della sua famiglia fanno pure questi uomini d'onore seguono mia figlia e la minacciano per farmi capire che sapevano dove era dove non era con chi camminava pensate che mascalzoni una ragazzina una bambina eppure tra un po' perdeva la vita più hanno tentato pure di delegittimarlo come hanno fatto con tutti e allora voi stasera mi hanno andato a casa e dice oh ma ne vale la pena perché io lo so che qualcuno di voi lo penserà e allora io vi rispondo così come ho detto stamattina ai ragazzi perché poi queste domande è ovvio che non hanno età è una domanda quasi che diamo per scontato e allora io però vi rispondo come in questo libro i cui proventi sono destinati alla quarto Savona 15 che è l'associazione di cui è presidente Tina Montinaro la moglie specifico sempre non la vedova di Antonio Montinaro caposcorta ucciso nella strage di Capace insieme a Giovanni Falcone la moglie sono destinati i proventi i diritti d'autore a questa associazione e quel dialogo che c'è scritto in questo libro fra me e mia figlia che a nome delle sue sorelle mi dice vai avanti non ti fermare alla prima nazionale della presentazione del libro a Roma al Tempio di Adriano il libro è stato presentato dal procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao e dall'allora capo della polizia prefetto Gabrielli questa parte l'ho letta un ragazzo che si chiama Giovanni Montinaro il figlio di Antonio Montinaro legge questo pezzo finisce si siede accanto a me al prefetto Gabrielli e il giornalista che moderava la serata che era l'allora direttore del Tg1 Andrea Montanari gli chiese Giovanni ma vuoi dire qualcos'altro e lui dice sì vi avrei richiesto la parola si gira mi mette una mano sulla spalla e mi dice grazie presidente grazie di cuore questa sera attraverso queste righe e attraverso queste parole dopo tanti anni sono riuscito a parlare a mio padre ecco certo che ne vale la pena grazie grazie dottor Antoci per la sua testimonianza coinvolgente commovente e che non ci lascia così senza commozione io mi scuso per l'orario siamo un po' oltre il programma ringrazio l'amministrazione comunale che a conclusione vuole consegnare lo facciamo dopo quando finiamo simbolicamente un pensiero di caso dal dottor Antoci c'è Alessandra che velocemente legge delle riflessioni di Paolo Borsellino ti porto il microfono dopodiché invito l'amico Simone Ferrari a venire qua sul palco scusate per l'orario abbiamo finito ancora 5 minuti da Paolo Borsellino e l'agenda rossa se la gioventù ne negherà il consenso anche l'onipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi al contrario devono stimolarci a fare sempre di più e meglio a superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati Palermo non mi piaceva per questo ho imparato ad amarla perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare la paura è normale che ci sia l'importante è che sia accompagnata dal coraggio non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura se no diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti forse saranno mafiosi quelli che materialmente non uccideranno ma quelli che avranno voluto per la morte saranno altri è bello morire per ciò in cui si crede che ha paura morire ogni giorno che ha coraggio vuole una volta sola devo fare in fretta perché adesso tocca a me i giovani e la mafia è un problema di cultura non in senso restrittivo e puramente emozionistico ma come insieme di conoscenze che contribuiscono alla crescita della persona fra queste conoscenze vi sono quei sentimenti quelle sensazioni che la cultura crea e che ci fanno diventare cittadini apprendendo quelle nozioni che ci aiutano ad identificarci nelle istituzioni fondamentali della vita associativa e a riconoscerci in essa purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia se la mafia è un'istituzione antistato che attira consensi perché è ritenuta più efficace dello Stato è compito della scuola rovesciare questo processo perverso formando i giovani alla cultura dello Stato e delle istituzioni sono ottimista perché vedo che verso di essa la mafia i giovani siciliani no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenissime 40 anni quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto la lotta alla mafia deve essere un movimento culturale e morale che coinvolga tutti specialmente le giovani generazioni le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale dell'indifferenza della contiguità quindi complicità e noi complici non vogliamo essere se ritenete giusto vi invito in occasione del trentennale delle stragi capaci via da meglio e di troppi morti ammazzati un minuto di silenzio di raccoglimento per queste persone che hanno dato la vita e l'hanno fatto anche per noi il direttore della banda di caso di Salvatore Trovato Simone Ferrari che ringrazio scusate poi ce la consegna al dottor Antoce alla professoressa Calandra e ricordo grazie grazie a tutti Grazie a tutti. La professoressa Di Marino viene a consegnare un ricordo dell'amministrazione comunale in qualità di assessore all'istituzione e alla cultura. Grazie a tutti. Scusate per l'ora un po' tardi anche alla scorta, agli uomini della polizia che si sono sacrificati dalla mattina per poter far sì che si giungesse a questo evento. Grazie. Presidente, io non ne nascondo che le sue parole mi hanno fatta veramente emozionare, sono ancora emozionata, ma principalmente mi hanno fatta, come penso a tutti, riflettere ulteriormente su alcuni principi di cui sono fermamente convinta. Per cui la ringrazio per esserci, la ringrazio per quello che ha fatto, per quello che farà e le auguro buona vita di tutto cuore. Un pensiero da parte dell'amministrazione. Grazie mille. Grazie mille. No, grazie a lei per averci onorato. No, per me è un grande onore per me, grazie. Un libro sulla storia del caso di me. Benissimo, leggerò un grande frutto. Grazie per la professoressa Caracca. Grazie a lei per tutta la ricerca che avete fatto. Penso che la scuola, la scuola, l'università in generale, la sua professione abbia proprio questo compito, di mettere in evidenza la realtà, di mettere in evidenza la realtà e di far crescere con tanta consapevolezza sui principi nostri ragazzi. Grazie di cuore. Grazie a tutti. E un ultimo, scusa Massimiliano, altri due ringraziamenti. Uno. Allora, intanto la pianta. Eh, grazie, ma troppo, troppo. Sì, chiudiamo. Volevo ringraziare la mia collega amica Costanza Per delle motivazioni, sarò velocissima. La prima, perché, eh, con il suo istituto, con i suoi docenti, porta avanti dei percorsi formativi veramente, eh, che mettono i ragazzi nelle condizioni di essere, eh, cittadini attivi. Quindi delle opportunità accettate, professore, a tutti i nostri ragazzi. Grazie per questo. Grazie perché collaborate attivamente, effettivamente, come prima ha detto lei, con l'amministrazione comunale, perché credo che le istituzioni debbano collaborare per far sì che i ragazzi crescano con questi sani principi. La collaborazione è fondamentale e vi auguro veramente buon lavoro, eh, ancora per tutto l'anno. E grazie a Massimiliano perché ci coinvolge sempre in queste cose. Grazie. Le consegno simbolicamente a nome di Salvatore Borsellino, presidente delle Agende Rosse, un'agenda al dottor Antoci e un'agenda alla professoressa Lina Calandra per quanto fate nel nostro interesse per un futuro migliore, più libero e più onesto. Grazie a voi di nuovo. Grazie a tutti.